una delle figure nell'entourage di Alfonso era un giornalista che si chiamava Ettore Mattia Ettore Mattia era uno che scriveva all'epoca per il Paese Serra il momento Serra che avevano delle edizioni particolari per il cinema stava sempre ai festival e creavano eventi cioè il cinema come evento ma anche raccontando frotole facendo delle cose e lui era un maestro mi ricordo di un piccoletto però molto vivace e a casa sua all'epoca incontrammo Martin Scorsese che ancora non aveva fatto il suo grande esploi lui sperava di lavorare in Italia e questo era il mondo all'epoca dei Sanzone che è un film è un evento se è un film che tu hai fatto veramente pensando di dire qualcosa di vero di intimo e lui sentiva questo credeva perciò nel nostro cinema perciò lo seguiva e veniva ai festival poi per esempio io ho fatto un film che si chiamava L'attentato col soggetto di Sempruno che era il famoso scrittore con cui sono entrato in amicizia e c'era questo gruppo di produttori che facevano film di autore e io ho proposto di fare la coproduzione mettendo come protagonista volontè però prevenendo i produttori che volontè era un tipo difficile volontè era un tipo che aveva cominciato un film e l'aveva messo a metà perché non gli piaceva più il regista gli ho detto costa caro rompe le scatole ma a noi c'è che è molto gradito in effetti questo quando sono finite le settimane ha fatto delle settimane gratuite e questi produttori francesi mi hanno detto ma che cosa racconta è un attore meraviglioso questo è stato un grosso avvenimento internazionale perché i film francesi l'hanno coprodotto ma non hanno mai dato il permesso di proiettarlo per la censura dopo due o tre anni è uscito in Francia grazie a tutti